e siamo all'autogestione come avrete capito nel senso che si gestisce chiaretono tv da dentro l'auto perché la Rita purtroppo ha prestato la casa a una sua amica che ci aveva da trombare con uno e noi siamo fuori da Citi si faceva allora il ladruco di Sabo dice Francesco questo andava fatto vedere in volto e il video divulgato in tutte le tv con un servizio l'imbecille del giorno in effetti è vero Lorenzo sul ladro di Sabo che prende molto spazio dai vostri messaggi per me il ladro era Mauro Peloni travestito per farsi pubblicità ora la comunicazione è importante ma non arriva a questi punti Mauro Paolo invece sul furto dice hai anticipato i soldi ha anticipato i soldi il malandrino in galera li fanno ugualmente basta il patteggiamento non ci capisco niente quando scrive questo Paolo Rita il ladro ripreso dalla telecamera hai ragione Leo è proprio tonto Leonardo sei un mito bravo invece mi dice Luisella buongustaia che non sei altro sul ladro che scemo dice Lucia mentre sulla nuova chiesa che dovrebbe nascere agli archi dalla quale parlavamo con Rossella Angelini Marcello dice dunque Leo fra Loris e la nuova chiesa chi è Loris scusa? il bambino il bambino ucciso ah il bambino ucciso la nuova chiesa scelta come il cavo la merenda perché avevamo affrontato i due argomenti e sono stato educato all'avviso Angiolini chiarisco che la chiesa è il ritrovo di fedeli che amano i propri figli e fratelli non è il caso di Loris ma io Marcello non lo so può darsi che ma bisogna che qualche rotella anche te tu te la faccia riguardare noi di sicuro e Rustia Lucelli occhio Leo che se scoprono che ti chiamano il banana anche a te ti mettono un gabbio Rustia porta la sorella se ne tanto veggia il raccordo autostradale dice Francesco non solo devi vedere sulla pericolosità che avevamo della quale avevamo documentato non solo devi vedere le inversioni di marcia per entrare nei distributori roba pericolosissima non è bastato neanche il morto per risolvere la situazione è proprio vero Francesco Davide invece su Sansepolcro lo striscione che hanno portato a Siena dicendo di volere essere adottati perché non si sentono a retini dice poveri biturgenzi che pena vabbè mica tutti biturgenzi sono in quel modo quattro tonti e non è che fanno un paese Adriano te, l'Angiolina e i Marò sono completamente d'accordo con te purtroppo il nostro paese è il paese di Pulcinella e infine il Saracino i Marò a casa ma che ci puntini puntini che vorrebbe dire azzo di governo abbiamo non riusciamo più a difendere i nostri militari che si fanno il culo in tutto il mondo per portare pace e legalità e a proposito di pace io in questi giorni di pace vi auguro un buon Natale a tutti ma ancora manca quattro giorni che vuol dire allora vi auguro tra quattro giorni un buon Natale grazie a tutti grazie a tutti